Siamo all'iLab di Bergamo alla consegna del primo Arc Vision Prize, il premio dedicato all'architettura al femminile promosso di Talcementi. Ne abbiamo parlato con Benedetta Tagliabue, membro della giuria, e con Carlo Pesenti, consigliere delegato di Talcementi Group. Benedetta Tagliabue, uno dei membri della giuria, chi sono i vincitori di questo premio al femminile? Sorprendentemente abbiamo avuto una scelta unanime sul primo premio. Si tratta di un architetto brasiliano che si chiama Carla Uassaba e che ha fatto un bellissimo padiglione temporale, fatto proprio per riciclare, molto grande, un paviglione delle Humanidades. È piaciuto moltissimo, ha fatto delle piccole case nel mezzo della natura brasiliana e abbiamo dato questo premio. per la sua capacità di fare un'architettura assolutamente essenziale, economica, riciclabile, che è una cosa che adesso stiamo cercando molto, tutti gli architetti. Che tipo di lavori avete valutato? Abbiamo valutato 19 presenze, ognuna portava più di un progetto, e tra di loro abbiamo scelto 4 vincitrici. La vincitrice del premio principale e altre tre che sono sempre molto architette interessate al tema della sostenibilità, dell'ecologia, però in maniera molto diversa. Una è una spagnola che si chiama Isascon Cincilla ed è veramente una personalità, una giovane donna che in architettura ha saputo influenzare veramente una generazione. Poi c'è un architetto dell'Estonia che si chiama Siri Valner e che ha fatto delle architetture per la sua età e anche per le possibilità di un architetto giovane molto sensibili, molto belle e in relazione con l'ambiente. E poi c'è un architetto indiano, una donna che ha vissuto molti anni anche in Australia, che si chiama Anupama Kundo e che fa delle architetture sperimentando molto nel tema della tradizione indiana della costruzione, della costruzione con argilla e facendo delle cose molto belle. Qual è il valore di questo premio alla vigilia dell'8 marzo, festa della donna? Ma forse è una casualità che il premio dato alla donna è il giorno dell'8 marzo, però io credo che, e soprattutto in architettura, è interessante vedere cosa stanno facendo le donne perché ancora non sappiamo se le donne siamo capaci di fare un'architettura leggermente diversa, più sensibile o se è giusto che in questo momento arriviamo ad avere degli studi per conto nostro e possiamo veramente dirigere uno studio di architettura alla nostra maniera. Carlo Pesenti, consigliere delegato di Talcementi, quali sono gli obiettivi di questo premio per l'architettura femminile? Gli obiettivi sono per noi molto chiari, quelli di sostenere lo sviluppo del nostro settore, che non deve essere solo un sviluppo tecnologico, economico, ma uno sviluppo sociale. Quindi abbiamo deciso di lanciare questo premio al femminile, una discriminazione positiva, come già l'abbiamo definita, che ha lo scopo di aiutare e sostenere lo sviluppo di questo mondo, del mondo del costruire, con una particolare sensibilità verso il mondo, la dimensione sociale del settore. Alla vigilia dell'8 marzo, qual è l'importanza delle donne nell'azienda? Noi festeggiamo da ormai tanti anni l'8 marzo e ci sembrava un bel regalo da fare al nostro gruppo, alle donne che ogni giorno contribuiscono con l'impegno al successo del nostro gruppo, un regalo coerente con la nostra visione, che è sempre molto orientata alla sostenibilità e ha nella diversità uno dei valori fondanti. La vincitrice avrà la possibilità di lavorare nei vostri laboratori? Sì, noi metteremo a disposizione della vincitrice uno stage qui da noi, ci porterà le sue idee, ci porterà le sue richieste, arricchirà le nostre conoscenze e noi speriamo di rispondere offrendo a lei delle soluzioni nuove. Come ne sono sembrati i progetti, i lavori di queste donne che hanno partecipato al premio? Devo dire, forse due delle più belle giornate, mie giornate in Italia al Cementi, perché siamo riusciti ad aggregare delle personalità straordinarie, che esprimono culture, conoscenze molto diverse in questo mondo. Questo è uno dei valori della globalizzazione e interagendo marginalmente con queste persone ho sicuramente potuto arricchire le mie conoscenze, le mie sensibilità di questo mondo.